Passare da una visione comunale a una di Valle. Proseguono gli incontri con la cittadinanza in preparazione al referendum per la fusione tra i comuni di Curso-Lovrasso, Cavaglio-Spocia e Falmenta. Ieri sera a Orasso i tre sindaci sono stati chiari. Occorre un cambio di mentalità. Bisogna iniziare a ragionare davvero come Valle. Alberto Bergamaschi, primo cittadino di Curso-Lovrasso, ha evidenziato. Scarseggiano le risorse dei comuni e dallo Stato arrivano sempre meno stanziamenti. Con la fusione si avrà un abbattimento dei costi fissi, oltre a cospicui contributi per investire sul territorio. Ma si andrà anche ad ottimizzare la gestione del personale in un'ottica di Valle e conteremo di più in seno alle istituzioni. Ma Bergamaschi ha subito precisato. Avere più risorse vuol dire poter partecipare ai più bandi, ma occorre un cambio di paradigma mentale, perché le risorse dovranno essere utilizzate in un'ottica di Valle. Una valle che non ha come risorsa solo il turismo. Pensiamo anche al patrimonio boschivo, edilizio e all'attività agro-sivopastorali. Sulla stessa linea di pensiero Giuseppe della Mora. Il sindaco di Cavaglio Spocce ha ricordato. Qualcuno ha un'oltre dubbi sulla fusione, ma continueremo a parlare con la gente. Sono convinto che siamo sulla strada giusta. Siamo chiamati ad una sfida per dare un futuro alla Valle Canobina. Stesso ragionamento del collega di Falmenta Luigi Milani. Noi abbiamo già deciso, ora tocca alla popolazione. La sede del nuovo comune viene ipotizzata all'UNECO. E il nome? Ci piacerebbe il comune di Valle Canobina, ha sottolineato Bergamaschi. Sì, ma la domanda sorge spontanea. Non manca un paese? La speranza, ha puntualizzato ancora Bergamaschi, è che anche Guro decida prima o poi di entrare e far parte del nuovo comune. Presente all'incontro di Orasso, anche il sindaco di Canobio è presidente dell'Unione di Lago Maggiore, Gian Domenico Bertella, il quale ha puntato il dito sul male per eccellenza della Canobina, la sua rete stradale. Non c'è sviluppo se non ci sono infrastrutture. Questa arteria e la statale 34 sono di fondamentale importanza per il territorio. Serve, ora più che mai, la loro messa in sicurezza definitiva. Grazie.